20 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 20 100 T6 piena 100 Accendo sinistro 3 20 D2 10 Tornante sinistro Più più 150 A1- Per D6 L'100 Diventa Accendo destro 3 A2- Dossetto in staccata Per D2- Più più Ripeto Per D2- Più più Per D4- Piena Per Accendo sinistro Tornante Tornante destro Tornante destro Ritarda 10 A3- Più 20 Accendo sinistro 2 Tornante destro 100 100 100 Accendo sinistro D3- Più più Piena Per Accendo destro Tornante sinistro Meno Per D5- Piena 20 Tornante destro Meno Meno Per Tornante sinistro Ritarda 10 Al cartello D4 Subito A3- Più Piena 100 T2- Più Per Accendo sinistro Destra 2 Più più 40 A1- Più Per Ritarda 40 A6- Mena 50 Sconnessi D3- Più Ritarda 5 70 Ritarda 30 D3- Più Più Per Ritarda 10 A4- Meno Meno Per Accendo sinistro 2 Subito D3 Subito A2- Più Più Per D5- Piena 50 Anticipa A6- Piena 20 Tornante sinistro 30 A6- Piena 50 Tornante Destro Per Anticipa A6- Piena Per D6- Piena Per Ritarda 40 A2- Più Più 70 T4- 2 Tempi Stop A1- Più Piena Sconnesso Staccata 50 Anticipa A6- Piena 50 Accendo sinistro Destro A6- Diventa Accendo sinistro D2- Subito A3- Più Più 50 Accendo Destro A3- A1- Più Diventa 2- Meno Subito D2- Più La D5- Piena E subito Anticipa A5- Piena 50 Array D2- Più Più Per A6- Piena 50 Molta attenzione Accendo Destro 4 A6- Sussalto Pela Muro 100 A2- Meno Per A6- Piena 100 D5- Stretto Sullo 150 D3- Più 100 Anticipa A6- Piena 40 A6- Piena Per D6- Piena Attenzione Sican Destra Sinistra Destra Alla chiesa Ritarda A20 Di 5 40 A3 Più Subito Di 4 Più Diventa 4 Meno 40 Accendo Destra 3 Sinistra 2 Meno Sporco Per D6 Piena E subito Tornante Destro Più Più 50 Accendo Destro Tornante Sinistra Più 50 A2 Più Taglia Tutto 70 Al palo D4 Più Piena 100 A 100 Sinistro D6 Piena E ritarda Il muro Ritarda 40 Staccata Sporca A2 Ricorda Subito D2 Più E subito A1 Gira Poco Eccolo qua Il cartello Giallo A1 Gira Poco E subito D5 Piena Per Anticipa 5 Subito Di Sinistra 1 Più Accendo Destra Sinistra 1 Più Per D2 Più Più 200 D6 Piena 20 Anticipa A6 Piena 100 Ritarda 70 Di 4 Più 40 Non esageriamo Alle rocce A2 Più Più Sporca Sporca Questa 40 A1 Meno 50 Ovvio Di 2 2 Tempi Per A6 Piena Diventa 5 Lù 30 Stop A2 Più 50 T2 200 T3 Meno 100 T4 2 Tempi 100 4 100 Tornante Destro Eccolo qua 50 Tornante Sinistro Più 30 Accendo Destro Anticipa A4 Meno Piena Affidati Per Passare Settano Settano Grazie a tutti.